Quale di questi granelli di polvere diventerà cometa? Quale continuerà a fingere come noi? Che questo passare, questa corrente di mani Questo nostro andare insieme verso l'istruzione Non si apre in fondo, è un errore non pensare mai E se tu, se io, se noi, non ci siamo niente E se tu, se io, se io, se io, se io, se io, se io E se io, 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 Grazie a tutti.